Lunedì i commercianti di Giulianova andranno in comune con dei nasi rossi a simboleggiare insomma un po' la situazione che si respira e l'aria che si respira in città andranno in comune per discutere con l'amministrazione della Tari. Cerchiamo di dare una connotazione perché siccome sono tante le contestazioni che siano delle punti miliari diciamo di questo confronto. Un confronto che i commercianti chiedono all'amministrazione perché? Cosa sta accadendo? C'è stata una rivoluzione fiscale, noi a Giulianova non stiamo facendo nulla di speciale ci siamo resi conto subito che la tassazione locale aumenta e quindi all'interno di un comune è inevitabile che le associazioni facciano la loro parte per rendere più equa la tassazione. Insomma i punti che voi chiedete all'amministrazione quali sono? Anche per far capire a casa poi di che cosa si discute perché l'argomento fiscale è poi complesso? Sì, cerco di essere sintetico. Sono quattro punti. Uno è quello di permettere ai cittadini di pagare con ravvedimento operoso che prevede da uno a due anni con una piccola corrisponzione di interessi. La seconda è quella di fare una dilazione del pagamento in dieci rate. La terza è quella di rendere molto chiaro che le case a disposizione diciamo così possono anche essere sfitte quindi non siamo costretti a pagare. E la quarta, che è quella strategica, è quella di incominciare a fare la pesatura della nettezza urbana perché il principio è questo, ognuno deve pagare in base a quello che poi effettivamente produce diciamo di nettezza urbana. A Giulianova forse si è arrivati ad una consapevolezza che in altre città non c'è cioè quella che è cambiato il rapporto tra chi deve pagare le tasse e chi impone la tassazione non è più il governo, si è scaricato tutto sugli enti locali e sui comuni, dunque bisogna confrontarsi. La tassazione locale negli ultimi dieci anni è aumentata del 250% rispetto a quella statale. A Giulianova siamo diventati maggiorenni subito, diciamo così, stiamo in una famiglia, all'interno della famiglia il nostro contributo vogliamo sapere che fine fa, anche perché la tassazione non sono solo tasse, ma privilegiare un comune, un'attività anziché un'altra cambia paradossalmente. In montagna si prevederanno le attività sciistiche, in campagna le attività agricole, al mare le attività, diciamo così, di turismo balneare e questo a Giulianova non è successo.